La collaborazione di Gulliver e Ail continua tutti i lunedì mattina, una volta a settimana i volontari di Gulliver e Ail saranno presenti qui a casa Ail per la cura della polizia del giardino e intorno alle case. Una collaborazione bellissima, io ringrazio il presidente Massimo Serra dell'Ail perché ci ha permesso di espandere la nostra attività di volontariato. Sono molti volontari e l'invito che lanciamo con Rossini TV è che chi abita la muraglia vicino vuole darci una mano, noi saremo qui il lunedì, potete venire con noi, aiutateci, aiutiamo la comunità. Sociale e ambientale, comunque Gulliver si occupa di ambiente, si occupa di sociale, Ail sapete tutti quanti chi è Ail, non devo spiegarlo io. Quindi l'unione delle due associazioni crea nuove opportunità di volontariato, nuove progetti in città. Certo, è una collaborazione che sta prendendo veramente forma anche grazie alla stupenda giornata, siamo stati molto fortunati e questo lascia ben pensare in un futuro, giornata soleggiata, più di così non si può. Di progetti con Andrea Bocanegra, il presidente e la Gulliver in particolare, ne stiamo studiando più di uno. Il primo, nell'immediato, sarà quello di riutilizzare uno spazio che abbiamo qui all'interno del villaggio, dove verrà creata una sala di aggregazione per, non solo per i nostri pazienti ospiti, ma anche per i familiari, dove si potrà leggere un buon libro, conversare, guardare la tv e tutto questo spazio, grazie a Gulliver, verrà rimesso a nuovo con tinteggiature, cose particolari che riguardano appunto questa collaborazione, e riguardano soprattutto la malattia per cui i nostri pazienti sono qui, però renderemo queste immagini molto più creative, non da spaventare ma da creare gioia.